E diamo il benvenuto al presidente regionale Valle d'Aosta del CONI, Jean Dondeina. Benvenuto qua nel nostro salotto del Tour de Jean. Grazie a voi per l'invito. Ci mancherebbe. Allora assistito a questa bellissima partenza del Tour de Jean, cosa è venuto fuori? Come sempre è una grandissima emozione, vedere tanta gente sportiva tutte insieme così, i colori, la nostra bellissima regione, questa splendida partenza è sempre veramente emozionante, una grande emozione direi. Sì, poi tra l'altro quest'anno abbiamo anche 80 nazioni, quindi sempre più internazionali, sempre più occasione per promuovere il nostro territorio. Sicuramente lo sport è un veicolo di promozione veramente imbattibile, io sottolineerei. Poi nella nostra regione ancora di più, perché ha una caratterizzazione sportiva molto elevata. Noi siamo una regione che ha per numeri tantissimi praticanti, è la regione che ha maggior numero di praticanti d'Italia, quindi è a sottolineare l'importanza proprio del ruolo che ha lo sport nella nostra società. Wow, questo è già una cosa che mi rende molto fiero di essere valdostano, che siamo tantissimi iscritti al CONI praticamente. Impegno di tutti i tipi, adesso abbiamo anche qui dietro gli sfondi Marco Albarello, quindi lui nel CONI c'è stato e c'è da sempre. Sì, certo, l'amicizia con Marco è nota, il suo apporto è sempre puntuale, sempre preciso e insomma abbiamo tanti progetti insieme anche da sviluppare per il futuro, perché dobbiamo rafforzare veramente il concetto che lo sport è un veicolo di promozione, è un veicolo per stare bene, è un veicolo per socializzare, è un veicolo per tante ragioni indispensabile e noi stiamo facendo di tutto per aumentare ancora di più la presenza di sport nella nostra regione. Sì, indubbiamente è vero, è bellissimo il bene che lo sport fa a 360 gradi, anche per gli anziani bisogna sviluppare questa cosa qua secondo me, perché più gli anziani stanno all'interno dello sport, forse perché sto diventando vecchio, però più si sta all'interno dello sport più c'è anche condivisione, più si rimane giovani. È un argomento assolutamente importante, i risvolti non solo ovviamente dal punto di vista sportivo che ha lo sport, sono proprio quelli che provavi a enunciare, ovvero la socializzazione, il fatto che lo sport lo possono praticare tutti da 3 a 90 anni, abbiamo per esempio tantissimi master che si trovano ancora oggi e socializzano, stanno insieme e soprattutto lo fanno con le altre generazioni, quindi anche un valore intergenerazionale. Sicuramente è un, come dicevo prima, è un veicolo sul quale anche le amministrazioni hanno capito che investire è importante, lo stanno facendo, soprattutto nella nostra regione lo si fa veramente in maniera importante, proprio perché viene riconosciuto il suo valore. Quali sono i prossimi eventi in cui il CONI è investito di partecipazione o di collaborazione? Allora, noi come CONI vogliamo essere presenti un po' in tutti gli eventi perché riteniamo che possiamo, come dire, apportare alcuni, come dire, anche dal punto di vista organizzativo alcuni elementi. Diciamo che il primo grande appuntamento che avremo come CONI saranno il trofeo CONI invernale, che questo dovrebbe sviluppare nel 2025. È una grande manifestazione dove i ragazzi da 10-14 anni si cimentano in tutte le discipline sportive invernali, quindi arrivano da tutta Italia e sicuramente sarà una grandissima festa che replica un pochettino quegli ambiti oppure quelle sensazioni che si hanno nei grandissimi eventi tipo le Olimpiadi, quindi ci sarà un villaggio, ci saranno delle sfilate iniziali e finali e questo sicuramente dovrebbe essere un, come dire, un grande evento a cui tengo particolarmente. Cavoli, questo è proprio bello, veramente. Quindi 2025 avremo questi... Sì, siamo riusciti ad avere... Sì, siamo riusciti ad italiane degli sport invernali. Sì, sì, sì. Che bello. E invece adesso stavo proprio pensando al Comitato Olimpico internazionale, insomma, quando si parla di CONI, di Comitato Olimpico, viene sempre fuori una frase detta da De Coubertin che proprio azzecca tantissimo col torteggiare. L'importante è partecipare e magari anche finire. Sì, certo. Ma bisogna anche un po' smittizzare questi... È importante partecipare, è importante vincere. È importante non avere la pressione della gara e però è importante avercela. Lo sport è una piramide, bisogna vederla come una piramide. Senza sport agonistico non si hanno, come dire, quei fari da raggiungere. Dall'altra parte, senza il movimento che si muove, non ci sono campioni. Quindi sono due strade che si devono sempre, in un certo senso, poi viaggiare parallele, però ogni tanto si devono anche incontrare. È un po' la chiusura del cerchio, anzi, dei cinque cerchi. Sì, certo, esattamente così. Dalla base c'è una piramide che poi ovviamente non tutti saranno campioni, però tanti possono ambire. L'ambizione è anche la voglia di riuscire, di mettersi in discussione, perché oggi il valore che trasmette lo sport è quello di mettersi in discussione. Non devono vincere tutti, ma io posso anche migliorare quello che ho fatto la volta precedente. E questo è un valore che sicuramente nella vita ogni persona la troverà. Bene, ringraziamo tantissimo il presidente del CONI Valle d'Aosta, Jean Dondena. Adesso andiamo a rilanciare la seconda parte della gara del Tour de Jean, quindi la seconda ondata che partirà a mezzogiorno, sempre dalla piazza Brocherelle. Brocherelle. Grazie mille per l'invito, grazie.